Una tempesta perfetta, così è stato definito il tragico, susseguirsi di emergenze che l'Abruzzo ha visto scatenarsi in pochissimi giorni. Una nevicata straordinaria per quantità e forza, un blackout durato fino a una settimana, un terremoto e una slavina che ha spezzato 29 vite nello terrigo piano. Sei vite a Campo Felice con lo schianto di un elicottero del 118 e cinque vittime in provincia di Teramo decedute per le condizioni estreme in cui si sono trovati per la morsa del gelo. Un quadro drammatico che oggi si studia per capire chi abbia sbagliato e soprattutto in cosa. Geologi, ingegneri hanno spiegato in maniera unanime sostanzialmente che lì era un posto dove non si doveva costruire e che quel fenomeno che abbiamo visto, sicuramente importante, era periodico, abituale addirittura, hanno scritto l'Università di Camerino. Certo noi abbiamo osservato una disorganizzazione generale, non una disorganizzazione generale, abbiamo visto tanti singoli operare anche in maniera eroica, però non possiamo non notare che c'è stato l'organizzazione e ha fallito su tutti i fronti. A partire dal Presidente della Regione che noi abbiamo visto in quelle ore chattare su Facebook, cercando di risolvere i problemi fuori da ogni filiera istituzionale. È prevista le norme di legge, nonché poi tutto l'aspetto Terna ed Enel, la rete elettrica che per una settimana ha trasformato l'Abruzzo, l'ha fatto ritornare nel Medioevo. Ora su questi aspetti non possono passare in cavalleria perché noi riteniamo che sia uno spartiacque questi fatti che sono accaduti per la nostra Regione. Ci sono stati morti anche fuori da Rigopiano purtroppo e che reglamano giustizia. E quindi noi opereremo con dei sposti specifici sull'aspetto di blackout e sugli aspetti della disorganizzazione. Perché chi ha avuto responsabilità in questo disastro paghi fino in fondo e soprattutto vorremmo evitarlo per il futuro. In questa giornata, in questo momento, la Regione Abruzzo sta pubblicando quello che è il piano per il rischio del dissesto idrogeologico con tutti i fondi destinati ai vari comuni. Si pensa a quello che è un altro rischio per l'Abruzzo? Beh, intanto sono piccoli fondi rispetto, se pensiamo che la Fondovalle Sangro, che è 5 km, costa 190 milioni di euro, cioè è il più grande intervento oggi e sulla rete elettrica il più grande intervento è quello di Terna per un miliardo di euro per fare un cavo che arriva dal Montenegro. Beh, sono follie, sono vari vista questa programmazione perché è proprio quel tipo di programmazione che ha creato i problemi sul nostro territorio perché invece di fare manutenzione si è pensata alle grandi opere e poi ci ritroviamo tutti per terra praticamente.